Io sono la vera vite, e il Padre mio è il vignoiuolo. Ogni traccio che in me non dà frutto, egli lo toglie via, e ogni traccio che dà frutto lo rimonda finché ne dia di più. Voi siete già mondi a motivo della parola che v'ho annunziata. Dimorate in me, e io dimorerò in voi, come il traccio non può da sé far frutto, se non rimane nella vite, così neppure voi se non dimorate in me. Io sono la vite, voi siete i tralci. Colui che dimora in me, e nel quale io dimoro, porta molto frutto, perché senza di me non potete far nulla. Se uno non dimora in me, è gettato via come un traccio e si secca. Cotesti tralci si raccolgono, si gettano nel fuoco, e si bruciano. Se dimorate in me, e le mie parole dimorano in voi, domandate quel che volete, e vi sarà fatto. In questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto, e così sarete i miei discepoli. Come il Padre mi ha amato, così anch'io ho amato voi. Dimorate nel mio amore. Se osserverete i miei comandamenti, dimorerete nel mio amore, come anch'io ho osservato i comandamenti del Padre mio, e dimoro nel suo amore. Queste cose vi ho detto, affinché la mia allegrezza dimori in voi, e la vostra allegrezza sia resa completa. Questo è il mio comandamento, che vi amate gli un gli altri come io ho amato voi. Nessuno ha amore più grande di quello di dare la sua vita per i suoi amici. Voi siete i miei amici se fate le cose che vi comando. Io non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quel che fa il suo Signore, ma voi vi ho chiamati amici, perché vi ho fatto conoscere tutte le cose che ho dite dal Padre mio. Non siete voi che avete scelto me, ma son io che ho scelto voi e vò costituiti perché andiate e portiate frutto, e il vostro frutto sia permanente, affinché tutto quel che chiederete al Padre nel mio nome, Egli ve lo dia. Questo vi comando, che vi amate gli un gli altri. Se il mondo vi odia, sapete bene che prima di voi ha odiato me. Se foste del mondo, il mondo amerebbe quel che è suo. Ma perché non siete del mondo, ma io vò scelti di mezzo al mondo, perciò vi odia il mondo. Ricordatevi della parola che vò detta, il servitore non è da più del suo Signore. Se hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi. Se hanno osservato la mia parola, osserveranno anche la vostra, ma tutto questo ve lo faranno a cagione del mio nome, perché non conoscono colui che mi ha mandato. Se io non fossi venuto e non avessi loro parlato, non avrebbero colpa, ma ora non hanno scusa del loro peccato. Chi odia me, odia anche il Padre mio. Se non avessi fatto tra loro le opere che nessun altro ha fatte mai, non avrebbero colpa, ma ora le hanno vedute ed hanno odiato, e me e il Padre mio. Ma quest'è avvenuto affinché sia edempiuta alla parola scritta nella loro legge, mi hanno odiato senza cagione. Ma quando sarà venuto il Consolatore che io vi manderò da parte del Padre, lo Spirito della verità che procede dal Padre, Egli testimonierà di me, e anche voi mi renderete testimonianza, perché siete stati meco fin dal principio.